Sì, sto registrando. Sì, sto registrando. Che roba c'è scritto? Oh, piano! Perché hai messo sti cosi? Io non ho messo niente, Tim. Che? Game Master. Un game master. Un game master. Maestro del gioco. Simo. Leva questa cosa. Sono le due di morte. Mi stai a fare il prank. Non sto a fare un cacchio. Non sto a fare niente. Simo, te lo giuro. Ma tanto accendi una luce. Ma che prank sarebbe? Metti i biglietti per terra. Che cosa vuole cercare? Fai piano. Fai piano. Oh! 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 Le accendi le luci! Oh! Simo! Tu li vai! Le ha accese te le luci? Oh! Chi l'ha spente volevo dire. Simo, stai a fare un prank? Oh! Simone! Simone! Simone di certi non mi metta a spargere sti cosi qua! Oh! Esce! Non c'è stato. Fuori e dietro. Non c'è stato. Non c'è stato niente. Oh! No, aspetta un attimo. Ti sto dicendo la verità. Non c'è niente. Simone, te lo giuro. Non c'è niente. Non c'è niente. L'ho fatto io invece. Non l'ho fatto. Sì, mi sono messo da fase. Sono le due di notte. Eh, sono le due di notte. Appunto. Cioè, secondo te io mi metto a... Quando c'è un mese? Sì, Simone. Stavo a dormire con te, eh. Sì. Ma pure di qua. Qua c'è nessuno. Guarda che il portale. Ma che è? Ssshh. Ma chi c'è? No, Simone, Simone. Vieni qua. Sì. No, no, no. Sì. Fermo così. Chi è? O, no, no. Chi cazza non si è buona. Chi cazza, Simone? Noi. ma che cazzo è che cazzo è dove stava quello sta qua fuori dove passi quello sta dell'ammo no no io passo qua con te ma che sei scemo non chiudo ecco l'entrato c'era lasciato le chiavi fuori ma se è carretino forte ma chi è questo Simone piano 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 questo sta qua dietro simone oh 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 simone shhh mi asmento la luce che cazzo mi fa che cazzo mi fa perché gira intorno oh 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 chi sei che cazzo vuole che vuoi che stai a casa qua quale gioco quale gioco oh le luci le luci oh le viste è finito dove sta oh simone fermo dove vai hai sentito hai sentito il rumore oh non ci sto queste scarpe queste scarpe basta andiamo dentro basta 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 stiamo a giocare un gioco ma che sta di state giocando a un gioco che conoscete che 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 che